Salve a tutti amici artisti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo del sequel di Space Jam che vedremo nelle sale cinematografiche nell'estate del 2021. Ma non prendiamoci in chiacchia e partiamo con il video. Per uno come Lebron James basta poco per fare notizia. La stella dei Los Angeles Lakers si è ripresa con il cellulare e ha pubblicato un video sul proprio account Instagram. Tutto questo senza dire nemmeno una parola, ma indossando un cappellino. Con quello che sarà il logo del nuovo attesissimo sequel di Space Jam in uscita nell'estate del 2021. Dal film originale con Michael Jordan protagonista sono passati i 25 anni e l'attesa per il sequel. Come sempre in questi casi è altissimo a rendere ancora maggiore il cast di assoluto livello come Don Cheadle e alcuni dei suoi compagni sportivi. Il titolo dovrebbe essere Space Jam A New Legacy. Detto questo negli ultimi mesi sono state rappelate alcune immagini del film che ritraggono Pennywise, Joker, The Mask, Voldemort e la strega cattiva dell'est. Adesso la domanda è da quale parte li vedremo schierati? Nel primo film con Michael Jordan la strega era la bizzarra e amorevole ragazza Pompon della Toon Squad. Ma stavolta? Spero che questo video vi sia piaciuto. Come sempre lasciate like, commentate e condividete il video. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate. Un saluto da parte mia e da Bug's Mind. A prossimo video.